Ex concorrente del grande fratello e ristoratrice milanese, Rosy Chin, esprime il proprio sostegno all'amica Chiara Ferragni nella recente separazione dalla star del rap Fedez. La Chin, proprietaria di un ristorante frequentato dagli ex Ferragnez, ha instaurato un solido legame con Chiara, tanto da considerarsi ormai amiche. Amicizia tra Rosy Chin e Chiara Ferragni. Rosy Chin e Chiara Ferragni, si sono conosciute nel contesto del ristorante milanese di proprietà della Prima, un locale spesso frequentato dagli ex Ferragnez. La Chin aveva addirittura riservato un tavolo quotidianamente libero per la coppia, nel caso avesse deciso di fermarsi a cena. Questo gesto ha segnato l'inizio di un'amicizia tra le due donne, che oggi si sentono molto vicine. La difesa di Rosy Chin nei confronti di Chiara Ferragni. In un'intervista rilasciata nel programma radiofonico Turchesando, Rosy Chin ha commentato la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, Fedez, schierandosi apertamente dalla parte dell'amica. La Chin ha espresso la propria disapprovazione per la scelta di Fedez di rendere pubblica la sua nuova relazione con la modella 20N Garance Ote, soprattutto in un momento così difficile per Chiara. Sento Chiara perché le sono molto amica, molto vicina. Fedez ancora non l'ha sentito. Chiara è una patatona, ha dichiarato la Chin, confermando il forte legame con l'influencer. Fedez avrebbe potuto aspettare invece di esse batterle in faccia la nuova fidanzata. L'ha abbandonata nel momento peggiore, ha aggiunto, criticando apertamente il comportamento del rapper. Rosy Chin ha anche sottolineato la propria posizione in merito alla questione, affermando, anche io prendo una posizione, lui avrebbe dovuto avere un po' di tatto. Da mamma e da donna, sono con lei. Io esco da una situazione sentimentale passata difficile, diversa da quella attuale, comprendo la sua sofferenza. La Chin, quindi, ha espresso la propria empatia nei confronti di Chiara, in virtù di esperienze personali simili. Rosy Chin e la critica al comportamento di Fedez. Rosy Chin non ha mancato di evidenziare come la scelta di Fedez di mostrare pubblicamente la sua nuova relazione possa essere stata particolarmente dolorosa per Chiara, soprattutto considerando il momento difficile che sta attraversando. La Chin, infatti, ha sottolineato come il rapper avrebbe potuto attendere prima di rendere pubblica la sua nuova storia d'amore, mostrando così maggiore rispetto per la ex moglie. La Chin, inoltre, ha fatto riferimento alla propria esperienza personale per esprimere la propria solidarietà nei confronti di Chiara. La ristoratrice milanese, infatti, ha rivelato di aver affrontato in passato una situazione sentimentale complicata, diversa da quella attuale, ma che le ha permesso di comprendere appieno la sofferenza provata dall'amica. In conclusione, l'amicizia tra Rosy Chin e Chiara Ferragni si è rivelata fondamentale nel fornire sostegno all'influencer in un momento così delicato della sua vita. La Chin, infatti, ha dimostrato di essere una vera amica, schierandosi apertamente dalla parte di Chiara e criticando il comportamento di Fedez. Attraverso la propria esperienza personale, la ristoratrice milanese ha espresso la propria empatia e solidarietà nei confronti dell'amica, dimostrando ancora una volta il forte legame che le unisce.